eccoci qua per l'appuntamento della magia oggi prenderemo una penna e quindi faremo un gioco voi da casa prendete lo stesso oggetto una penna una matita e mettetelo sotto i vostri pollici qual è la sfida di oggi è che da questa posizione bisogna andare a questa posizione e da questa posizione a quest'altra posizione quindi da sopra sotto da sotto a sopra l'importante è che voi non apriate mai le vostre mani e non facciate questo movimento dovete restare sempre chiusi quindi penna sotto i pollici da così a velocemente così e da così quindi pollici sotto e da così a così questa è la sfida del magic andrea provateci da casa fatemi sapere come è andata ciao